C'è molta curiosità intorno alla figura di Seedorf, allenatore, è una curiosità che sta coinvolgendo anche lei, non vede l'ora anche lei di scoprire Clarence in versione allenatore? Io sono stato con Clarence per molti anni, capisco la curiosità di tutti di capire quello che Clarence proporrà, ma Clarence farà l'allenatore, non fa il mago, in tre giorni, quattro giorni non è che si possa pensare di scoprire tutto quello che Clarence vorrà proporre a questa squadra.